Che cosa vuol dire essere intelligenti? Questa domanda è diventata improvvisamente importante nel 1972 per l'astronomo americano Carl Sagan quando gli fu chiesto di scrivere un messaggio molto speciale. Era un messaggio che doveva essere mandato nello spazio sulla sonda Pioneer 10 che doveva lasciare il sistema solare e il messaggio doveva essere comprensibile a qualunque forma di intelligenza aliena. Carl Sagan consultò i suoi colleghi fisici, matematici e decisero di preparare un messaggio che usasse la molecola dell'idrogeno, la posizione delle stelle e una serie di principi teorici di matematica. e l'idea loro era che qualunque forma di intelligenza nell'universo avrebbe dovuto comunque evolversi all'interno delle stesse leggi fisiche e matematiche che conosciamo noi e quindi dovrebbe arrivare a comprenderle. Questa era la lingua franca che volevano usare. E qualche anno dopo Sagan preparò addirittura un messaggio da mandare con i radiotelescopi alle intelligenze aliene basato su una serie di bit che usavano i principi dei numeri primi. Bene, io ho mostrato i suoi messaggi al mio gatto che è un essere intelligente che capisce tutto che può ingannarmi quando vuole e i troppi e anche l'altro messaggio senza ricevere alcuna risposta. E questo ci fa pensare che forse anche gli alieni hanno ricevuto il messaggio di Sagan e la domanda è dove aveva sbagliato Sagan? E la risposta non è così difficile. Lui aveva difficoltà a immaginare qualcosa di veramente alieno perché non è facile immaginare qualcosa di veramente diverso da noi. In effetti il suo messaggio sarebbe stato incomprensibile anche su questo pianeta anche dagli esseri umani 500 anni fa. Leonardo da Vinci non poteva conoscere la molecola di idrogeno. Oppure oggi su questo pianeta molta gente non è interessata ai numeri primi. Quello che lui stava cercando non era l'intelligenza era un'altra versione di se stesso. E non sbaglio che facciamo sempre abbiamo fatto spesso nella storia e faceva anche lui e dobbiamo imparare. Quello è uno dei limiti che abbiamo. E allora per pensare a un agente intelligente come facciamo? Beh, immaginiamo un'entità in questo caso noterete l'ape con degli obiettivi. L'ape vuole lo zucchero nella forma del nettare deve prendere decisioni magari fa qualche sbaglio poi impara ma c'è anche una pianta che vuole impollinare le altre piante e deve manipolare l'ape e fa lo stesso. Gli agenti con obiettivi in grado di imparare degli errori adattarsi ragionare sono agenti intelligenti e l'intelligenza non è un'esclusiva degli esseri umani o degli esseri viventi. Gli esseri umani sicuramente non sono gli unici c'era intelligenza qui su questo pianeta prima di noi ma ne sono anche gli esseri viventi non sono gli unici le macchine possono essere intelligenti YouTube è in grado di capire cosa raccomandare a quale utente in quale momento allo scopo di perseguire il suo obiettivo di farci cliccare e poi se fa degli sbagli impara. Come l'abbiamo fatto? È importante capire come abbiamo costruito questa versione di macchine intelligenti perché dobbiamo conviverci fare delle leggi e tutto questo non ha senso se cerchiamo di risolvere problemi che non esistono e regolamentare macchine che non esistono. Quelle che esistono oggi le abbiamo fatte tutte più o meno allo stesso modo prendendo delle scorciatoie. La prima scorciatoia è questa l'uso della statistica. Dopo tanti decenni in cui abbiamo tentato di fare come Carl Sagan e di mettere nelle macchine un tipo di intelligenza simile al nostro umano matematico tipo come l'intelligenza che si trova all'interno di uno scienziato abbiamo scoperto che quel metodo non funzionava e oggi se io scrivo Cernobbio su Google senza neanche finire la frase con criteri puramente statistici il meccanismo può capire cosa voglio dire che informazioni mi potrebbero servire e cerca di prevedere le mie azioni e le mie esigenze. La statistica spesso può prendere il posto delle teorie più profonde. E poi questo crea il bisogno di dati tantissimi dati in cui trovare queste relazioni statistiche e questa è la seconda scorciatoia che abbiamo preso invece che fare i dati produrli pagando li prendiamo dove si trovano in natura questa è l'espressione che usiamo e i dati preesistenti in natura sono quelli sul web dove si può imparare molto sul lago di Como sia dai promessi sposi che da altri fonti con livelli diversi di accuratezza e affidabilità e poi e poi bisogna capire per una macchina cosa vuole l'utente e non è facile chiedere a un utente cosa vuole e abbiamo preso una terza scorciatoia abbiamo deciso di osservare costantemente l'utente assumendo che ogni click segnala le sue preferenze e costruiamo un modello matematico di ogni utente eccole qua dati preesistenti in natura relazioni statistiche osservazione dell'utente costante sono tre ingredienti che usiamo nella ricetta di oggi per creare le macchine intelligenti che usiamo continuamente vale per instagram vale per facebook vale per amazon vale per tiktok vale anche per per gpt non comprendiamo esattamente quello che sanno appunto perché sono fatte in questo modo statistico però le abbiamo collocate al centro dell'infrastruttura globale che manda avanti il mondo il web e abbiamo delegato decisioni importantissime a queste macchine che hanno conseguenze per la nostra vita cosa può andare stordo beh intanto ci accorgiamo che questi algoritmi talvolta prendono decisioni sospette dubbie che ci fanno dubitare della loro neutralità della loro onestà c'è chi parla di algoritmi razzisti c'è chi vuole usarli per la persuasione degli elettori c'è chi nota che le fake news circolano perché sono raccomandate dall'algoritmo e poi c'è il problema della dipendenza comportamentale c'è gente che non riesce a smettere di usare contenuti raccomandati da una macchina e allora come fidarci come lasciare un bambino davanti a youtube o tiktok o un adulto vulnerabile ci sono degli effetti secondari come facciamo essere sicuri che nessuno si farà del male bene per fortuna da qualche anno abbiamo cominciato a lavorare su questa domanda non solo gli scienziati ma tutti e oggi i parlamenti del mondo parlano apertamente di intelligenza artificiale i capi di stato si sono incontrati due settimane a bletchley park per discutere di intelligenza artificiale questa è una cosa che non mi sarei mai sognato da studente sono 28 anni che lavoro su queste cose mai avrei pensato di vedere i primi ministri del mondo parlare di algoritmi intelligenti fra di loro il parlamento europeo è molto avanti la legge è quasi pronta forse questa volta non faremo lo sbaglio che abbiamo fatto con l'ambiente forse questa volta siamo partiti in tempo e riusciremo a prenderle in tempo l'importante è che non possiamo staccare la spina non solo perché è impossibile tecnicamente oggi staccare la spina e vivere senza questi metodi l'intera web funziona grazie agli algoritmi intelligenti non ha senso una biblioteca senza catalogo e non possiamo usare youtube o il web senza un algoritmo che ci trovi contenuti per noi e poi non sarebbe responsabile c'è tanta gente che ha aspettato decenni per la loro opportunità di avere educazione a basso costo assistenza sanitaria a basso costo e ora il momento è arrivato questi metodi stanno per dare tante di queste cose a tutti sarebbe pazzesco staccare la spina però dobbiamo conviverci regolamentando comprendendo e questo richiede un passo copernicano superare un limite così come abbiamo capito che noi non siamo il pianeta al centro dell'universo e abbiamo dovuto lottare per capirlo e abbiamo capito che non siamo la specie animale destinazione finale di ogni evoluzione siamo una delle specie e ora dobbiamo capire che noi non siamo il punto di riferimento di ogni intelligenza siamo un tipo di intelligenza altri tipi di intelligenza possono esistere e le nostre macchine già oggi sono intelligenti ma a modo loro e dobbiamo trattarle diversamente da noi è un altro tipo di intelligenza comprendendo questo sarà facile fare le leggi giuste insegnare le cose giuste nelle scuole è importante questo passo perché convivere vuol dire comprendere così da poterci regolare di conseguenza gli sbagli che abbiamo fatto con l'ambiente erano sbagli che abbiamo fatto perché non comprendevamo a fondo per lungo tempo i meccanismi in questo caso sappiamo quello che possiamo fare e siamo ancora in tempo in fondo è questo che significa essere intelligente grazie grazie a tutti grazie a tutti